Se solo avessimo le ali... Ci riconoscerebbero. Roxy, ricordati che siamo in incognito. Dove sono finiti? Sono fermi a un semampo, poco distanti da qui. Alla scientifica non hanno mai visto niente del genere. Spero che l'esperto svizzero capisca qualcosa. Bene. Già riesco ad immaginare la nostra bella settimana bianca solo io e te. Smettila, Gomez. Quello strano orologio è l'unico indizio che abbiamo sulla scomparsa di Annabelle. Ballalo! Dammelo! Andiamo! Non ti azzardare a lasciarlo! Questa volta non gli permetterò di scappare. Su, andiamo! Lo scopo della prova è arrivare all'isola Mako, a 10 chilometri da qui. Oh! No! Tutto qui, Ace! Ma ovviamente no, carissima Stella. In realtà dovrete riuscire a battere... ...gli squali. Ah, e quindi è una gara che arriva prima all'isola? Io sono pronta! È lo spirito giusto, tipico di una ragazza preparata, entusiasta, dinamica e così... Cosa ne pensi, Margot? Che scovare un talento non equivale affatto ad avere talento. Stiamo... Pronti, partenza, via! Pronti, partenza, via! Pronti, partenza, via! A me sembrate più dei tolli! Stare vicini è pericoloso! I figli possono intrecciarsi! Ma cosa vogliono? Giocare duro! Ma noi saremo all'altezza, ragazze! Su, seguitemi! Sì! 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 Accidenti, non ci voleva! E volevo dire complimenti alle nostre fantastiche Winx! Sono state fortunate! Cioè, bravissime! È il momento di passare alla fase 2! Ora chiederò aiuto a qualche pesciolino! L'ho visto! L'ho visto! L'abbiamo perso di nuovo! Accidenti! Accidenti! Ah! Grazie a tutti.